Se sei il tipo di atleta che ama analizzare i dati per migliorare le sue prestazioni, il 4Runner 630 ha tutti i numeri per rispondere alle tue esigenze. Oggi parleremo di alcune delle nuove misurazioni fisiologiche derivate dalla velocità e dalla frequenza cardiaca. Queste funzioni avanzate richiedono l'utilizzo di una fascia cardio indossata sul torace per misurare la variabilità della frequenza cardiaca. Il tuo cuore non batte come fosse un metronomo, pertanto i nostri calcoli utilizzano le variazioni da battito a battito per conoscere meglio la tua prestazione. Queste lievi variazioni indicano come il corpo risponde allo sforzo a cui è sottoposto. La prima di queste straordinarie nuove misurazioni è la stima della soglia anaerobica. La tua soglia anaerobica è il massimo livello di sforzo che il tuo organismo può sostenere senza accumulare lattato. Per gli atleti allenati la soglia si rileva generalmente a circa il 90% della frequenza cardiaca massima e con un'andatura utilizzata per correre 10 chilometri. Per gli atleti meno esperti la soglia anaerobica si rileva spesso sotto il 90% della frequenza cardiaca massima. A quale gruppo appartieni? Il Forerunner 630 elimina le supposizioni rilevando la tua soglia anaerobica. Questi dati ti aiuteranno a sapere la velocità che dovrai raggiungere in una corsa a tempo o a intervalli. Infine ti può aiutare ad allenarti con maggiore precisione e potenzialmente a migliorare i tuoi tempi di gara. Il Forerunner 630 può misurare la tua soglia anaerobica in due modi, tramite un allenamento guidato oppure automaticamente durante una normale attività di corsa. Entrambi i metodi richiedono di correre molto velocemente. Per ottenere la misurazione più precisa della soglia anaerobica devi prima effettuare alcune corse all'aperto per consentire al Forerunner di conoscere il tuo livello generale di forma fisica e di stabilire il tuo VO2 Max. L'orologio ti comunicherà i progressi dopo alcune corse. Una volta rilevata la stima del VO2 Max puoi eseguire l'allenamento guidato durante una corsa all'aperto indossando la fascia cardio. Seleziona Menu, Statistiche, Soglia anaerobica, quindi seleziona Esegui test guidato. Il test inizierà con un riscaldamento e progressivamente con un allenamento più difficile finché non vengono raccolti e analizzati i dati sufficienti a fornire la tua soglia anaerobica che comparirà come un valore della frequenza cardiaca e del passo. In alternativa corri normalmente e la funzione di rilevamento automatico calcolerà la soglia anaerobica una volta raccolti i dati sufficienti da una serie di andature. Questa operazione richiede alcune corse ad andature simili o più veloci della soglia anaerobica. Dopo che il Forerunner ha rilevato questo valore puoi applicarlo automaticamente alle zone di intensità basate sulla soglia anaerobica che potrai ulteriormente personalizzare. Ora, se vuoi aumentare la resistenza e il valore della soglia anaerobica, trascorri del tempo nella nuova zona 5 e guarda come si riducono i tuoi tempi di gara.